Mancano poco più di 48 ore alla sfida fra il Trapani e la San Cataldese, valida per la ventottesima giornata del girone I di Serie D. È conto alla rovescia per due società che vivono dimensioni diametralmente opposte del torneo. In casa Trapani si avvicina sempre di più il momento della matematica promozione Lega Pro, con il sodalizio guidato dal presidente Antonini, che ha messo nel mirino l'ennesimo record di un torneo da mille e una notte. 96 è il primato di punti in Serie D ottenuto dal Piacenza nella stagione 2015-2016. Il Trapani ha attualmente 68 punti e a 10 partite dalla fine del torneo potrebbe arrivare a quota 98, superando il record precedentemente raggiunto dal Piacenza. Per fare questo il primo ostacolo da superare è proprio la San Cataldese, che domenica prossima, 25 febbraio, alle ore 15.30, si presenterà allo stadio provinciale con l'intento di dare continuità al pari contro il Ragusa. Per la squadra Verdamaranto l'impresa è al limite del proibitivo, con la capolista reduce da 11 vittorie consecutive e l'intenzione di non rallentare la cavalcata trionfale verso il salto di categoria. Per la San Cataldese invece si prospetta un finale di campionato nell'intento di evitare la lotteria dei play-out. La distanza dall'ultima casella che conduce allo spareggio è di 5 punti, attualmente occupata da Locri. Questo è il programma della ventottesima giornata di Serie D, Girone I. Domenica alle 14.30, Acragas-Real Casalnuovo, Castrovillari-Locri, Gioiese città di Acireale, Portici-San Luca, Vibonese-Canicattì, alle 15.00 città di Sant'Agata-Fenicia-Maranto-Reggio, Ragusa-Nuova-Igea-Virtus, alle 15.30 Trapani-San Cataldese. Grazie a tutti.